musica niente quindi niente questa storia va avanti da me e tu niente hai vent'anni non quaranta per quanto tempo possiamo andare anche così OVIDEO buonasera, quanto? OVIDEO 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 Stiamo parlando della spinta OVIDEO Cento piedi dall'alto, c'è sul c OVIDEO 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 lo fai io? Questo è un intervento Non possiamo andare avanti così Questo tuo Qualsiasi cosa sia deve finire Tu forse non te ne rendi conto Guarda Da quando hai cominciato a fare quei video Non sei più la stessa persona Com'è che ti sei ridotto così? E poi che cazzo vuol dire OVIDEO? OVIDEO 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 Voi che i cristiani mi salutano, mi pagano da bev e mi metto pure i like su Instagram Se vuoi diventare famoso e muci, o fai DJ o fai cortometraggi Vedi vestiti? No, non ho mai visto ma, i DJ non sono assi I cristiani che vanno di roba pure, no no no, non è cosa mai Ce l'ho io l'idea giusta per te In realtà cercavamo un profilo più semplice che possa toccare il cuore della gente Un volto giovane e pulito per i nostri video elettorali Sì sì sì, ti prego, falli fare a me, li faccio io, farò chi vuoi, ti prego, falli fare a me, ti prego, ti prego Dopo i miei video la gente mi ama Il successo La riconoscenza Eccomi Finalmente è il mio momento Grazie 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 E' quello dei video Ma è quello dei video E' quello dei video Quello dei video Quello dei video Quello dei video Video, 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 video... video, 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 quale dei video, dei video, dei video... o video? Mi raccomando, serietà! guarda non 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 montrò rsh quando ha avuto il catice che sti fiste di 18 anni adesso andro a cazzola a me a capi che sti cacca non smetto un nome qui no a metto nome coniù ciao